è importantissimo migliorare in realtà oggi siamo qui in qualità di sponsor tecnico e di co-sponsor per cui dopo le dichiarate azioni estorsive del Presidente Moretti inizio ad essere leggermente preoccupato sul mio futuro sul nostro futuro ho accorto alcuni passaggi insomma di voi dei vostri interventi mi faceva piacere anche ripartire un po' l'intervento dell'assessore sul senso civico sulla differenza del senso civico che troviamo all'estero io sono un uomo del sud, sono di Bari devo dire che fortunatamente i lanciatori professionisti di mondizia sono in via di estinzione grazie a Dio una mentalità che purtroppo si è portata dietro nei tempi e che probabilmente era anche dettata da una scarsa informazione e sono convinto sulla essenzialità di partire dalle scuole io ho la fortuna di avere mia moglie che è anche psicologa dell'età evolutiva per cui noi vediamo tantissimo che sia nel dialogo con i nostri figli ma con le scuole e sono loro poi il motore come dire della sensibilità a volte quando mi fermo un semaforo a scrivere un sms mi dicono papà la tua vita è più importante di un sms che hanno letto lì lungo l'autostrada ma al di là di questo il perché oggi noi siamo qui noi siamo un'azienda di vernici tutti quanti voi ci conoscete per cui non sarò oggi a sciordinare quello che facciamo da oltre 30 anni abbiamo collaborato con le sommintendenze con le committenze private pubbliche per poter dare il nostro know-how sulle vernici ma quando qualche anno fa vi siete affacciati con l'idea degli angeli del bello io sono due anni che ho preso come dire gestione di queste attività per il centro sud Italia e ho trovato semplicemente meraviglioso il vostro modo di pensare come dire l'idea del libro del cittadino di non dover essenzialmente aspettare e di non dover chiedere all'amministrazione che si dovesse fare carico di tutto io oggi in aereo mezzo un minuto qua vi ho definito una responsabilità sociale del territorio per cui prendere coscienza che anche noi come libri cittadini possiamo intervenire il passaggio che io fondamentalmente credo nel conservare le carte in tasca e gettarle è quando noi riusciamo a superare la visione della strada come tale e trasformarla come strada come se fosse l'ingresso di casa nostra io credo che nell'ingresso di casa nostra non butteremo mai una cicca o una carta peraltro diciamo abbiamo apprezzato abbiamo accettato volentieri e non vogliamo che sia come dire una parentesi fine a se stessa perché non troverebbe il giovamento perché appunto dicevo la vostra responsabilità sociale sul territorio si sposa perfettamente con il nostro ruolo la nostra responsabilità sociale di impresa noi amiamo far sì che il nostro prodotto non debba essere riconosciuto solo sulla bontà del prodotto stesso se vogliamo tra virgolette siamo stati in grado di trasformare un prodotto che come dire in maniera data può essere considerato un prodotto banale ma in realtà come diceva la sovrintendente la vernice ha un ruolo importantissimo nel ristauro dei monumenti ma siamo riusciti a trasformarlo in qualcosa di più quasi diciamo in un must del colore perché il colore ha l'attenzione al centro alla centralità della nostra attività della nostra vita e quindi vogliamo cercare di fare business ci impegniamo siamo un'azienda di estrazione olandese per cui diciamo ci portiamo dietro questo know-how a volte possiamo sembrare anche eccessivi ma in realtà così non è perché cerchiamo e vogliamo fare business perché è giusto che sia perché insomma le nostre famiglie vivono del business che generiamo ma lo vogliamo fare producendo un'economia sostenibile un'economia sostenibile che passa sia attraverso il rispetto dei lavoratori perché la prima cosa è avere il rispetto dei lavoratori se qualcuno di voi capita all'ingresso della nostra azienda la prima cosa che trovate è un tabellone elettronico che recita da quanti giorni non avviene un infortunio in tutta Italia e ad agosto festeggeremo se io vuole i due anni senza infortunio che significa anche un leggero punto di sutura questo significa grande attenzione diceva il dottore oggi si parla di sostenibilità ma che cos'è la sostenibilità ci sono anche dei parametri dove uno può andare a guardare un'azienda che opera con i concetti di sostenibilità non a caso da un paio d'anni siamo alla vetta del Dow Jones Index Sostenibili che va a parametrare tutte le aziende di tutto il mondo che vi concorrono prendendo in esame rispetto ai lavoratori ma traducendo quanta CO2 immetti in atmosfera quanta acqua consume e quanti rifiuti immetti per commercializzare un prodotto quindi tutti coloro che vogliono prendere in considerazione aziende che realmente fanno sostenibilità che non si traduce semplicemente con il packaging di colore verde perché oggi io dico se andiamo al supermercato tutto si è trasformato fa buono che la barilla da bufa si è verde anzi li ha già fatti e quindi si pensa solo al colore verde per dare un senso di sostenibilità e dicevo si sposa perfettamente anche con il nostro progetto Human Cities che vi invito di andare a guardare è un progetto nato in collaborazione con la fondazione dei Clinton e con la fondazione dei Rockefeller che tra l'altro abbiamo presentato alla Biennale di Venezia ed è proprio un progetto che mira alla riqualificazione della città portandole un'idea di misura d'uomo pertanto concludo rinnovando l'onore di essere qui con voi noi abbiamo un sogno assessore come diventare partner della città di Firenze magari riprendendo anche il dialogo con lo strumento del piano del colore che ritengo la sua intendente ci darà ragione perché il corso del centavo anche che sia uno strumento basilare anche nella riqualificazione attraverso la riqualificazione del colore grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti